Una persona buona, gentile e sorridente. Sono queste alcune delle parole scelte da chi conosceva Raniero Guarandelli, il noto tabaccaio di Montecchio, deceduto improvvisamente lunedì mattina all'età di soli 52 anni. L'uomo, conosciutissimo nella zona, era il titolare assieme al fratello della frequentata tabaccheria edicola in via Montecchio, a fianco della pasticceria New Day. Ed è stato proprio il fratello, Roberto, di 56 anni, ad aver ritrovato il corpo senza vita di Raniero. Erano le 9.30 circa quando il fratello maggiore ha alzato, come tutte le mattine, la saracinesca del negozio e non vedendolo arrivare si è subito preoccupato, decidendo così di contattarlo al telefono. Le numerose chiamate senza risposta però hanno condotto Roberto a dirigersi a casa del fratello, dove abitava da solo e una volta entrato ha notato il corpo di Raniero che giaceva sul pavimento. Dopodiché ha chiamato immediatamente il 118 e ai sanitari e al medico intervenuto non è rimasto altro che constatare il decesso. Solamente l'autopsia, eseguita mercoledì dalla dottoressa Buscemi, ha spiegato le cause della dipartita, emoragia cerebrale causata da una malformazione congenita. Incredoli della sua scomparsa così prematura, i gestori delle attività a fianco della tabaccheria, che hanno dato voce al loro dispiacere. Siamo rimasti tutti molto sconvolti onestamente perché non ce l'aspettavamo, era un ragazzo che veniva qui a prendere il pane così, riservato però nello stesso tempo molto molto simpatico, si parlava, lui amava molto la montagna, l'estate andava in montagna così, perciò si parlava di queste cose, si scherzava, anche delle persone che venivano qui andavano da lui, che tanti clienti più o meno sono quelli, perciò siamo rimasti veramente veramente sconvolti. Che rapporto avevate con Raniero? Ma no, era un'amicizia comunque di lavoro, ecco, di vicinato, così fuori dal lavoro non è che ci si vedeva, ok, però era una persona che conoscevamo molto molto bene, insomma, perché erano anni che lavoravamo vicini l'uno con l'altro. Che rapporto avevate e che persona era Raniero? Raniero era una persona squisita, molto dolce, una persona molto molto brava, buona, un peccato, un peccato. Giovane, troppo giovane, purtroppo sono cose della vita che non fa piacere sapere avere queste notizie, però Raniero era conosciuto da tutti da quando era piccolo, perché aveva comunque un'attività di frutta e verdura, la sua famiglia, una brava persona. Una grave perdita dunque per la comunità di Montecchio? È una perdita, molto sì, perché lui era tranquillo, faceva la sua vita, era uno che non criticava mai nessuno, era bravo, era proprio molto molto bravo, è un vero peccato come tutti poi quelli del paese. Raniero per me era un amico, mi dispiace molto che è andato, però era una persona un po' schiva, però io e lui scherzavamo sempre, volevo sempre mangiare la pizza qui, tutti i giorni, era come un amico, mi dispiace, sono rimasto male, veramente. Non se l'aspettava? Non se l'aspettava, lo vedevo uno che era proprio in salute per me, era proprio veramente, era un avatar, lavorava sempre. Rosario e funerale che si sono svolti giovedì e venerdì nella chiesa di Montecchio, dove tanti conoscenti si sono uniti per un ultimo saluto a Raniero.